L'Otto è il bitonto, a Carezza per oltre un tempo l'idea di espugnare il sintetico del valefuoco di Mugliano di Napoli, poi però deve accontentarsi del pareggio dello scontro diretto giocato in trasferta contro il Savoia ed è tutto sommato un bel accontentarsi contro un avversario di spessore per la squadra di Massimo Pizzulli che torna a muovere la classifica dopo la sconfitta di mercoledì scorso al Città degli Ulivi nel recupero casalingo contro il Taranto. Pronti via i pugliesi passano già in vantaggio, Terrevoli al sesto minuto sfrutta un'ingenuità difensiva dei campani e serve sul piatto d'argento, un pallone che Patierno trasforma in oro, cioè nella rete che spezza l'equilibrio. Gol numero 14 in questo campionato di Serie D per l'attaccante dei Neroverdi, una sentenza sottoporta. Prova a scuotersi il Savoia che prima del quarto d'ora ha la migliore delle occasioni per pareggiare, Figliola a terra così in aria al vino ma si riscatta, ipnotizzando il tedesco dagli 11 metri, terzo rigore parato per lui in campionato. Dopo quelli al Cerigno e al Fasano insiste la squadra di Torre annunziata ma Razzino lavora questo pallone per l'intervento in spaccata di Diachite che fallisce il bersaglio. Attaccano i padroni di casa ma il vantaggio ospite resta congelato sino all'intervallo. La ripresa potrebbe aprirsi col botto per il Bitonto, Patierno suggerisce Falcone tarda a calciare e poi perde l'attimo buono per raddoppiare. Difende bene e si affida alle ripartenze. La squadra di Massimo Pizzulli pericolosa ancora con terrevoli salva in maniera provvidenziale Sabini cinico e spietato invece si rivela il Savoia che pareggia i conti. Prima dell'ora di gioco con questo colpo di testa in avvitamento di tedesco. Uno a uno equilibrio ristabilito prova a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Salvatore Campilongo che cerca l'acuto del successo. Non sta a guardare invece il Bitonto che protesta in pieno recupero per questo tocco rischiosissimo di Poziello. L'arbitro nella circostanza lascia correre. Finisce così uno a uno a Mognano di Napoli. I neroverdi falliscono il sorpasso ai danni dei campani e restano in settima posizione in classifica. La zona playoff però è distante. Due sole lunghezze.